Gentili telespettatori, buona giornata. I servizi segreti militari italiani sconsigliano il capo della Lega, il capitano, di recarsi al confine con l'Ucraina, passando per la Polonia. Il consiglio di non recarsi è, in quanto amico di Putin, proprio recarsi in Polonia, dove vedono Putin come fumo negli occhi e davanti al confine dove stanno scappando le persone per quello che sta combinando Putin, i servizi segreti lo hanno sconsigliato. Ma è più forte di lui. È cominciata la campagna elettorale e è cominciata la pagliacciata salviniana elettorale. Io la vedo così. Non ci vedo nulla in questa iniziativa che non sia di carattere politico-elettorale per le nuove elezioni che ci saranno tra un anno. Arrivederci a tutti e grazie.